Musica E salve a tutti amici del tubo e bentornati qui in un nuovo appuntamento dei fratelli del tubo Sono MrN e benvenuti E oggi come vedete siamo tornati su Doom 3 Ragazzi lo sto registrando di seguito all'altro Quindi se mi avete scritto qualcosa nei commenti o volete dirmi qualcosa Purtroppo non ho fatto in tempo a leggerlo Ok Perché sto appunto registrando di seguito Avanti Ok Ma ciao Ma perché spari a questa velocità? Va bene Va bene qui non devo interagire con nulla No perfetto Vabbè poi vi faccio fuori easy ragazzi Ok Allora Andiamo un po' Oh guarda che bello Un coso per la vita Allora di là non posso andare che c'è il fuoco Quindi vado per forza di qua Cosa succede? Che cazzo sei tu? Mercoledì Vabbè dai si fanno fuori easy però questi ragazzi E che io questo gioco l'ho giocato solo all'inizio no? Merda Ho giocato solo all'inizio e non ero arrivato fino a qua Ok va bene Quindi Trovato Ma perché mi devono fare i trappolossi dietro qua? Cosa c'era di così bello da guardare qui? Il medikit non lo so io E' arrivato Goku è arrivato Mi lancia le sfere di energia Ricarica veloce Sto morendo porco Giuda Ok luce E luce fu Dove devo andare? Di qua Perfetto Allora Qua munizioni prendile Tutta la vita Allora qua Ma Ma vaffan Ok per fortuna Non sono tanto intelligenti Quindi posso Però sono molto forti Non sono tanto intelligenti Quindi mi posso nascondere dietro le pareti E questi qua vedete quanto sono lenti Cioè posso proprio Eh Mu vuoi Tan tan Tananep Eh Però rischio sempre di Prendere danno Va bene Qui dietro c'è qualcosa No Qui Ok andiamo di qua Chi è che mi ha litato nell'orecchio? Allora Questa porta qua è rotta Quindi non ci si può andare Devo andare per forza di qua Va bene Eh Mi fa i trappolossi Mi fa Ma vedi qua Ma vedi Ma vedi questa gente che non ha più rispetto Cioè io sono vecchio Non posso prendermi questi Questi colpi Ciao amico Io non posso prendermi questi colpi Che bello Hanno smembrato qualcuno qui Oh beeeh Ma Perché io non mi immagino queste cose Vaffanculo Qualcuno mi ha detto che prendo troppi infarti Che Sembro finto Ragazzi è tutto vero Cioè io mi spavento davvero Quindi Wow Ma vaffanculo Ok Andiamo avanti Qua Ci sarà sicuramente uno di quei Ma perché Ma perché parlo Ma per Perché parlo Ok Ok aspetta che ho solo due munizioni Quindi ricarichiamo E andiamo a fare i culi Dove Ah Mamma mia Mamma mia Lo sapevo Lo sapevo Ok questa non me l'aspettavo Dovrò Ah ok Devo saltarci sopra Semplicemente Proprio easy peasy Vieni qua Che ti faccio Il culo Vieni qua Vieni Oh Ok ragazzi Allora Dobbiamo andare di qua No perché È accesso limitato Quindi dovrò trovare Un tablet Ancora Oh no Se no questo Ok posso di Ma perché Ma perché devi Uh Medikit Ok No di qua non posso andare Quindi devo per forza andare di qui Va bene Va bene Ok abbiamo completato l'obiettivo Dai Goku Dai Goku deforme Ma No 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 Sparagli Uh L'ho zoppato Allora Qui ho preso tutto A parte il medikit Questo qua No non lo posso prendere Va bene Quindi dovrò tornare indietro Non so dove Eeeh Ma per Che fai Che fai I trapporozzi Maledetto Ok Quindi devo andare nell'area di trasferimento Cioè uscire dall'area di trasferimento Scusate Ok ragazzi Eccoci qua Avanziamo piano piano Avanziamo piano piano che non mi fido Ma affan- Sparagli Escono dalle potute pareti ragazzi Ok Qua è dove avevano preso le cose Siamo tornati indietro quindi Allora Non è di qua Ah Infatti ho detto dove devo andare Pensavo di essere l'unico rimasto Oddio che spavento Non riesco a crederci che averti trovato Sei più inquietante degli altri Bim Bim Sì Chiudi trapassi i capelli Va bene E tu? Capito devo fare tutto io il lavoro Ma guarda Questi che non hanno rispetto Allora Condotti di ventilazione quindi Grazie Appunto Allora Di qua non posso andare È tutto Dove andare di qua alla fine Ok Va bene Vediamo un attimo Quindi questo fantastico Amico friz Eh Vabbè dai Voi siete easy peasy Vieni qua Ma dove sei uscito? Io ero qua dentro Ah ma ci sei tu E allora dillo subito Ok Ah un tablet Ci potrebbe servire Più avanti Per non so che cosa Qua devo accucciarmi Per prendere le munizioni Se no brucio Appunto Questo Ah era un medikit Perfetto un medikit Posso passare di qua Ma loro come fanno a sapere che io sono qui? Sentono le porte che si aprono Uh Nuova arma ragazzi Nuova arma Eh Dovrebbe essere una mitraglietta questa Se non ricordo male Sì avanti Ok Errore scheda Perfetto Dobbiamo andare prima di qua E poi dobbiamo tornare indietro A quanto Sembra Però mi rimetto il fucile a pompola A pompola eh ragazzi Nome tecnico Fucile a pompola Eccola qui Questa è la scheda Va bene Quindi Passando di qua Mettiamo la scheda Acco Dentro E ce ne andiamo A quel paese Perché tu devi morire E male Ma quanti ce ne sono? Ce devono essere di zombie infetti Qui dentro E poi ragazzi Voi sapete per caso cosa sono Non so se qualcuno di voi Ha mai giocato A doom Se sono Magari lo spiegano più avanti Sicuramente lo spiegheranno più avanti Incontreremo il dottore Perché è tutta colpa sua questo Maledizione Maledetti Ok Dove Ma senza testa Va in giro Ma Ma vedi un po' Wow Ho infuocato l'amico Ok va bene Tu Amico Vieni qua Ciao Ma vaffanculo Se no qualcuno Viene Aiuto 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 Ok Eccolo qua Ma Eeeh Il ciccione Il ciccione ragazzi È arrivato Merda Merda Prendi il medikit Prendi il medikit Ma Eeeh Perché c'è così tanta bella gente? Proviamo Proviamo a mettere L'arma numero 4 Ok Ok ragazzi Funziona Sta funzionando Sta funzionando Vieni qua È forte ragazzi È forte quest'arma Uh La mitragliata ci sta salvando il culo Non ero impanicato No Va bene Allora Di qua quindi è chiuso Dobbiamo andare O di qua O di qua Però mi ispira di più di qua Perché è chiuso Prima Allora Troviamo qualcosa Io intanto sto registrando solo da 12 minuti Quindi farò vedere sicuramente di più Anche questa serie Tenterò di tagliare il più possibile Per evitare di lasciare magari Buchi Di Come si chiama? Di silenzio E qui cade la carne dal soffitto Ma che schifo Va bene Oh Cose per la salute Va bene Prendiamole tutte Allora Qua forse ci sono munizioni Cose utili ma Non c'ho voglia di stare qua Ah no Trovato Datemi un secondo ragazzi Ok ragazzi Oh Ce ne servivano un po' Abbiamo trovato Un sacco di cartucce C'è anche un medikit Che Se caso mai ci servisse Che merda sei tu Un altro paziente Era un morto Quello ragazzi Che è tornato in vita Molto probabilmente Che bello Che tornano in vita i morti Va bene Allora Qui uno morto Con un medikit Con tutto quello che volete Ok Va bene Questo gioco sarà anche vecchio Però È fatto molto bene ragazzi Poi Confermatemi voi Se Vi piace non solo come serie Ma No poverino Era vivo Ok Non solo come serie Sto avvicendo Ma Proprio In generale Come gioco Allora Vediamo un attimo Oh Qua sei mi accuccio Molto probabilmente Sì Posso prendere tutto Di qua si va Tra l'altro Da qualche parte Qui È tutto Non posso prendere niente Ok Però ho trovato Uh Un attimo Botta di lag Perché stava caricando Una nuova zona Ok Quindi Adesso noi Ce ne andiamo Ok Qua sono Indeciso Dove andare Se di qua O A sinistra Mmm Di qua posso Wow Ok Niente Ok Dovevo entrare qua Però qui è bloccato Mmm Wow Salve Dica Sono figo Ok 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 Diamoci sotto Ragazzi Sì signor Capitano Ok ragazzi Allora Amministrazione Del laboratorio Alfa Devo raggiungere I laboratori Alfa Quindi molto probabilmente Dovrò andare Di qua Ok Sì Perché Forse No Sicurezza Fì quanta roba Che c'è qui dentro No Dammi il codice Now Lo voglio adesso Il codice Non ho il codice Ragazzi Merda Fa niente Fa niente Quindi Io so che anche tutti i robot Sono stati distrutti Di qua Non posso andarci Quindi dovrò Tornare indietro Molto probabilmente E andare Di qua Allora Dove prima Non potevo andare Ah ecco Infatti Ora ci posso Madonna mia Che botte di lag Ok Infatti ora Eccoti qua Infatti ora ci posso andare Perché ho aggiornato Le mie informazioni Ma Ma tu non Ma tu non c'eri dietro Ma come Maledetto No 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 Ragazzi Oh Ok Questo lag compromette Il mio rendimento Sul gioco Chi è che mi smomitazza Nell'orecchio Dove sei Eccoti qua Ti sentivo ma non ti vedevo Eh Giochiamo a nascondino Ok Allora qua Qua non c'è Nulla A parte Sto coso Che non so Cosa serve Vediamo un attimo Quindi Direi Che Di Qua Cosa c'è Oh Wow 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 Ma vedisti E Quanti Quanta brava gente Che c'è qua oggi Oh Ok Preso la corazza Ho fatto cadere un pc Perfetto Qui non so cosa c'è Ricarichiamo l'arma Oh Vediamo un attimo Qua cosa trovo Un medikit Perfetto Ragazzi qua sto trovando Tanta bella cosa Tanta bella roba Quindi dovrò Andare di qua Sì sicuramente di qua Ok Vediamo un po' Vediamo un po' La UAC è qui per aiutarti I servizi psicologici Sono gratuiti e riservati Uh Quante munizie ragazzi Che però Ho già tutto Salve Vuole ordinare un caffè? Sì guardi Sì guardi Lo faccio subito Piaciuto? Molto bene Molto bene Sono contento Sono felicio Allora Qua abbiamo un sacco di Cartucce Oh vediamo No Hanno distrutto il videogioco Ragazzi Non godere Vieni qui Ok Allora ragazzi Di qua Non posso andare Non posso fare nulla Perfetto Quindi Perché sono arrivato Fin qua? Non lo so Bagni ragazzi I bagni Mi ha fatto paura Questo Eeeh Tu sorella Ragazzi A parte gli scherzi Questo mi ha spaventato Davvero Va bene Ok Allora Attiviamo la torcia Se no Non si vede una bega Allora Qua niente Tutto a posto Non C'è niente Quindi devo uscirmene E Andare di qua Ho sentito Eccoti Muori Ok C'è un robot Il robot è mio amico Ragazzi Il robot è mio amico Bravo robottino Vabbè ragazzi Ho registrato 20 minuti Tanto che il robot Mi sta aspettando E vi dico che L'appuntamento Aspettate che Ok E vi dico che L'appuntamento di oggi Può finire qua Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate ragazzi Se volete dirmi qualcosa Darmi qualche consiglio Ditemi se l'avete già giocato Anche voi O se avete già giocato Magari a uno dei precedenti Doom Che ne so E niente ragazzi Condividete se il video Vi è piaciuto così tanto Iscrivetevi se non siete ancora iscritti E noi ci rivediamo A un prossimo video Bella ragazzi